La dicesettesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A ha definitivamente chiuso la lotta per la salvezza, mentre è ancora tutto aperto per ciò che concerne i posti per Europa e Champions League. Per il primo obiettivo il Cagliari saluta la massima serie perdendo in casa contro il Palermo per 1-0. Per la lotta Europa invece sono in corsa ancora Roma, Lazio e Napoli. I giallorossi di Garcia vincono all'Olimpico 2-1 con l'Udinese dopo l'iniziale vantaggio friulano con Berica arriva alla rimonta con Nainggolan e Torosidis. Gli azzurri di Benitez lunedì sera battono per 3-2 al termine di una emozionante partita il Cesena. Nelle altre gare della giornata il Verona batte l'Empoli così come il Torino sul Chievo, mentre il Genoa vincendo a Bergamo contro l'Atalanta già salva e quinta in classifica.